A me piace tanto quella che mi vede tu, ho le 40.000 euro, sai questo qua con le 40.000 che hai visto? Dai facciamo un video da 3 milioni ragazzi, la cosa più improbabile del mondo, vai la Scalaway, gommi lì, vai, vai, Giovanni Verna, via! 40 kg! Vai! 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 Vai gol a strombo! Vai gol a strombo! Vai gol a strombo! Grazie a tutti.